Salve a tutti, eccoci con i miei compagni di viaggio. Siamo arrivati nella calda Monaco di Baviera, dove ci aspettano questi simpatici 4 gradi, nel resto del mondo ce ne sono 22, la gente va a mare, noi siamo qui e non parlo di mettere la sciarpa e i guanti perché fanno un freddo e salgiano, tra un po' ci congeleremo, però voi veniteci a salvare tutto al più, giusto? Sì, noi siamo carichi, siamo carichi per questa simpatica, abbiamo scelto il periodo giusto per venire, è il famoso calore primaverile della calda germana che ci aspetta. Eccoci nella birneria Augustine, birra chiara, coca cola e siamo pronti a sperimentare la cucina bavarese. Eccoci nella calda Berlino, abbiamo appena finito di mangiare nell'Augustiner, birreria tipica del posto e adesso siamo carichi, eccolo, fa mica freddo, non fa mica freddo, sono solo 2 gradi, ha piovuto, è umidissimo, meno 2, meno 2, meno 2, e adesso siamo pronti per scoprire un po' Berlino prima della bronchite. Grazie. Questa è la piazza principale di Monaco, Marian Plaza. crediamo obelisco dove c'è l'usanza di la moneta di quarta fortuna qui nel frattempo passano per stata anche dei tifosi del Bayern Mono che purtroppo sono stati sconfitti stasera dal Liverpool ma hanno preso abbastanza bene mi sento abbastanza ugualmente allegri grazie buongiorno a tutti eccoci siamo i nostri compagni di viaggio siamo distrutti i movilativi distrutti i movilativi non vogliamo siamo carichi per questa ottima prima colazione bavarese per sicurezza abbiamo ordinato un po' di tutto vedete qui come si è per scoprire che cosa è e se è buono e poi magari prendere qualche altrua vi ho messo tre succhi di arancia dopo vi faremo vedere il fritto che fanno così esatto tutti i prodotti delicati dal punto di vista nutrizionale alimentare sono delicati per fegato, pizza il resto è l'apparato diciamo che il re delle graffe non è nessuno a confronto della simpatico oggi in Trum Time dove siamo adesso vediamo mettendo la condizione questo qua come si chiama? l'Odeon Splatz vedete siamo qui in Odeon Splatz il nostro ultimo punto di interesse da visitare prima di andare in direzione Salisburgo è una madonna è una madonna quando mi dice niente che ci fa su sta cartella vabbè raga ho fumato eccoci a marian plaz alle 11 e a mezzogiorno ogni giorno al suonare delle campane c'è c'è questo di quello spettacolo è un po' 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 questo è un po' è un po' Grazie a tutti. Hai esagerato? No, non c'è. Sto lavorando, adesso vatti. Sto lavorando, adesso vabbè. Sto lavorando, adesso vabbè.